Qualcuno vuole una tazza di caffè prima di metterci in marzo? Ottima idea Alex No grazie Io si, voglio un bicchiere di latte scremato con caffè decaffeinato Jimmy Cosa c'è? La vola di fantasia, portami qualcosa di diverso dal caffè locale Attenzione Mio fratello voleva soltanto ballare con te, non pretendeva molto Ma tu non hai voluto accontentarlo Mi scusi, i miei amici mi stanno aspettando Beh, ti aspetteranno a lungo Ieri gli sarebbe bastato ballare Ma oggi vuole qualcosa di meglio Non so se mi sono spiegato No 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 Non fare storie, tesoro Vedrai che ti divertirai anche Lasciala andare, Dwight Non vorrà spararmi Sbrigati Fa quello che ti ho detto Obbedite allo sceriffo Andiamo via di qui Avanti, muoviamoci Dov'è finita Alex? Probabilmente starà cercando il tuo latte scremato Molto divertente Vado a cercarla Non voglio più sentire commenti idioti Chi sono quegli uomini? I fratelli Trenner Hanno una specie di capanna in mezzo alle montagne Ma nessuno ha mai visto il loro rifugio Lasciatemi andare No Lasciatemi andare Stammi bene a sentire Sara è anche bella Ma ti assicuro che qui non conti nulla Tu sei solo un delicato fiore Quel genere di fiore Che non dura a lungo da queste parti Perciò sta zitta e fa la brava, capito? Cos'è successo? I fratelli Trenner Cosa? Hanno ucciso lo sceriffo E rapito Alex E' anche la buona La buona E' da disperazione E' da disperazione E' da disperazione Ciò che non ti assicuro E' dai disperazione E' da disperazione Sentite, io sono il vice procuratore distrettuale di Tarrant nel Texas Davvero? Una donna così importante sarà una novità Ma lascerò che si diverta prima Luke Allora non volete proprio capire? Non è troppo tardi Se mi riportate indietro subito vi prometto che... Voglio darti un consiglio Quando dico una cosa ti conviene Aprire bene gli orecchi, chiaro? Su, andiamo